Cosa è successo al tuo passaporto? Sono compratto il biglietto, voglio andare a trappare, cercare lavoro. Quando è andata a porta, la polizia controlla me, è venuto la prefettura, loro hanno rotto il mio passaporto, non so cosa è successo, non so perché, loro non hanno detto niente. È andato un anno per il cacere, senza aborto, non so perché, è sempre cattivo con me. Io non ho fatto niente, sono quasi quattro anni, non neanche lavoro, senza casa, senza mangiare, non so perché cosa è successo. Quindi, vuoi sapere che cosa è successo, loro hanno rotto il mio passaporto. Quindi dove sei? Io sono in Ghana, da Ghana, Ghana il passaporto, ecco qua. Non so perché loro hanno rotto il mio passaporto. Adesso non hai più utilizzato? No, io ho dormito fuori, non c'è mangiare, non c'è lavoro, non c'è casa, anche soli. Questo 80 euro il mio amico dàmi per cercare lavoro, loro hanno rotto il mio passaporto. Il biglietto l'ho appreso, non ti dàmi 80 euro, loro l'ho mangiato. Ancora uno anno cacere. Le valette OPG, hanno fatto puntura, non so perché, non lo so se io sono male, se è male, però se la gente si vede, io non sono male. Anche io non so, non sono male. Si hanno fatto qualcosa, adesso, parli con me, cosa hanno fatto? Io non ho fatto niente. Perché hanno rotto il mio passaporto? Bisognerebbe chiedermi alla prefettura? Ecco, quindi vuoi sapere perché loro hanno rotto questo passaporto? Vuoi sapere perché loro hanno rotto questo passaporto? È androchene, è gilesco. È così, è così. Quindi io non c'è niente di male con voi, non penso male con voi. Sono qua su quattro anni, non neanche per mesi su giorno. Sono ravvigliato, venito qua dal 2011, 22 giugno. Tu sei già rifugiatto politico? Sì, 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 anche senza documento. Questo passaporto è il mio paese, la Ghana. Loro ha rotto. Prendendo l'imbalito? Sì, loro ha rotto, non so perché loro ha rotto. Anche loro non dà il suo documento, non dà. Questo è il mio paese, Ghana. Non si può, la polizia ha atturato il mio passaporto così. Si ha fatto qualcosa di mare, arresto. Giusto, capisci. Però non si può rotto il passaporto. Qualcuno paese ha il passaporto, non si può rotto. Quindi noi, vuoi sapere l'Italia, cosa ha fatto di male con voi? Non lo fa cattivo così come. Grazie. 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 Grazie.